benvenuto in leggenda sbaglio qui è francesco almasio e volevo informarvi che come potete notare apple ha creato un account twitter di supporto per poter aiutare nelle vostre problematiche ovviamente essendo un account generale dovrete fare le domande in inglese quindi avrete il supporto tecnico su twitter tramite domande e altro e risponderanno alle vostre domande altra cosa importante vi consiglio il numero di contatto apple per l'assistenza e il supporto trovabile semplicemente tramite una ricerca su google con la sezione dedicata come vedete trovate i numeri di contatto apple per l'assistenza e supporto sono molto disponibili e basterà andare nella propria sezione ovvero europa e troverete l'italia come vedete il numero è l'ottocento novecento quindici novecento quattro e potrete chiamare per domande e altro in ogni caso se avrete bisogno di andare direttamente nell'account italia troverete in oltre il supporto tramite potete scegliere il tipo di problema e anche tramite accedendo alla community del supporto apple se avrete voglia di farlo potrete trovare soluzioni altre direttamente da qua ovviamente tutto in inglese invece il telefono è in italiano ovviamente spero questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto vi consiglio di iscrivervi al canale telegram troverete due tipi di canale per quanto riguarda il canale il canale telegram e il canale anche gaming di telegram in modo tale che potrete seguirmi per quando faccio le live su youtube e poi vi consiglio di iscrivervi anche al gruppo telegram per poter anche messaggiare un po con me e per avere un po un riscontro direttamente con voi vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video